Sindaco, sit in davanti alla provincia perché ancora ad oggi non si sa quando si andrà a votare. Sì, diciamo c'è questa paventata ipotesi di sospendere il decreto di indizione dell'elezione del 14 gennaio da parte del facente funzione Presidente della provincia e siamo qua a sostenere un concetto preciso di legalità e di rispetto non solo delle regole ma che le regole non si possono cambiare in corso e quindi sosteniamo e diciamo che comunque si debba andare a votare per una forma anche di rispetto di tanti sindaci e tanti amministratori che hanno creduto nella legittimità della convocazione perché il facente funzione aveva solo uno scopo quello di traghettare l'ente alle elezioni del nuovo Presidente della provincia che sappiamo com'è andata e quindi diciamo è inutile che puntiamo sui giochi, sui giochetti sugli emendamenti fatti fuori tempo massimo e per consentire di prendere un po' di tempo. Io non è che non voglio che si prenda tempo, io voglio soltanto che si vada a votare così come è stata indetta l'elezione dal facente funzione. E le mille proroghe non c'entra niente in tutto questo? Allora il mille proroghe è sicuramente una norma che è stata inserita, un emendamento inserito al mille proroghe del 31 dicembre, anche questo è un altro vulnus particolare perché voglio dire il mille proroghe ha tante sfaccettature e mille problemi da affrontare. Io non riesco a capire qual è stata l'importanza e qual è stata la necessità di fare applicare un emendamento presentato il 13 gennaio in commissione alla Camera dei Deputati che interessava solo e esclusivamente una provincia, la provincia di Crotone. In nessun'altra provincia si vota quest'anno. Quindi sembra un emendamento ad hoc, sembra un emendamento fatto sui generis e in modo particolare per questa provincia. Allora se tanto mi dà tanto e credo che i protagonisti che sono contententi a me cioè il sindaco Wittemberg e il sindaco di Mesoraca che sono di area PD o che dir si voglia cioè è ovvio che mi viene il dubbio che in questo momento da aver fatto un gruppo così di centrodestra, di civico, di consenso, di persone che vogliono confrontarsi e fare un modo diverso di fare la politica è ovvio che ho l'impressione che sia fatta apposta per timore che questo gruppo potesse raggiungere l'obiettivo. Io non dico che sono parto vincente non l'ho mai detto, anche nelle mie competizioni comunali non l'ho mai detto e quindi continuo a ribadirlo. Però devono consentire a queste persone per il rispetto istituzionale che devono avere per i nove sindaci che hanno aderito a questa mia candidatura e per tutti gli amministratori comunali che ci sono presenti dei 22 comuni di poter votare legittimamente e in modo legale.